bentornati a lampi di tesla dove sarà la prossima gigafactory ne abbiamo già parlato tante volte ilon ha detto che alla fine di quest'anno verrà annunciata la location per inizio costruzione l'anno prossimo e quindi diciamo inizio produzione 2024 inoltrato io ho sempre pensato per vari motivi che l'indonesia poteva essere una location interessante si è pensato che tesla fosse molto vicino al canada io credo che in canada si penserà più che altro una fabbrica di batterie è saltato fuori che effettivamente ilon o comunque tesla in generale stia valutando molto seriamente anche la corea del sud comunque rimane il fatto che l'area geografica nella quale si sta pensando di costruire una nuova gigafactory quindi parliamo di auto e probabilmente anche batterie è sicuramente l'asia quindi non ci resta che aspettare e vedere se magari nella earnings call del trimestre in corso che quindi ci sarà più o meno a fine gennaio ci sarà l'annuncio appunto della nuova gigafactory io rimango abbastanza convinto sull'indonesia voi cosa ne pensate questo fine settimana e in particolare giovedì è il giorno del ringraziamento negli stati uniti vi ricordate un po che cosa aveva detto ilon che entro il giorno del ringraziamento ci sarebbe stato il rilascio dell'fsd beta con il single stack quindi con i benefici dell'fsd beta anche per quanto riguarda l'fsd su autostrade quindi l'autopilot commerciale per tutti i beta tester in nord america beh ormai siamo agli sgoccioli e ilon lo ha confermato proprio ieri quindi non ci resta che aspettare e sono sicuro che a brevissimo cominceremo a vedere i primi video di come si comporterà l'autopilot con appunto le nuove occupancy network che comunque tutti i vantaggi della beta anche in autostrada cioè dove lo utilizziamo normalmente una puntualizzazione il rilascio per ora è solo per i beta tester quindi neanche per tutti quelli che hanno l'autopilot negli stati uniti solo per i beta tester io mi aspetto che entro fine anno rilasceranno tutto questo pacchetto a tutti coloro che hanno l'fsd acquistato in abbonamento negli stati uniti e che comunque con questo aggiornamento anche chi ha l'autopilot normale beneficerà dei vantaggi dell'fsd per quanto riguarda l'europa potrebbe arrivare anche per noi non vedo il motivo per cui non dovrebbe però non credo che arriverà in questi tempi non ci resta che aspettare e vedere un po che cosa deciderà tesla parliamo un attimo dell'assicurazione tesla per fare un discorso un po più ampio io dico sempre che comunque l'approccio di tesla su tutti i settori è quello di avere sempre la possibilità di non limitarsi cioè di ampliare sempre di più tutte le possibilità e ora vado a esprimermi meglio e a spiegarmi l'assicurazione tesla come abbiamo già detto varie volte è estremamente diversa dalle altre assicurazioni perché basa il proprio punteggio del guidatore cioè quindi quanto poi vado a pagare a fine mese in base a dei parametri in tempo reale quindi se guido bene in maniera prudente corretta rispettando le regole pagherò meno di assicurazione se invece il mio rischio di incidente è più alto pagherò di più di assicurazione e questo non dipende dalla mia anagrafica dai miei parametri ma dipende effettivamente da come guido ecco che è uscito il safety score cioè appunto come viene creato questo punteggio versione 1.2 che cosa cambia rispetto alla versione precedente viene aggiunto un parametro oltre a cambiare un pochino i calcoli ma non andiamo così nello specifico non ci serve qual è questo parametro che se io guido in una certa fascia oraria notturna il mio rischio di incidente si alza e quindi il mio punteggio risente di questa guida notturna che sia corretto non corretto ovviamente tesla ha le sue statistiche però ha fatto i suoi conti ma qual è il punto che voglio evidenziare proprio il fatto che comunque tesla è sempre in evoluzione parlando di assicurazione parlando di apertura dei supercharger agli altri parlando di sensori di parcheggio parlando di tesla vision di quello che volete cioè tesla inizia a implementare una nuova funzionalità la prova assorbe tutte le statistiche i dati li elabora e va a migliorare quello che era stato rilasciato precedentemente e questo vale per tutto il mondo tesla e quindi questa la filosofia che dobbiamo avere in mente quando andiamo ad acquistare un prodotto tesla ed ecco che torniamo a parlare di supercharger perché proprio ieri tesla ha annunciato di aver raggiunto lo stallo numero 40.000 che insomma è un risultato abbastanza interessante gli stalli quindi 40.000 stalli sono distribuiti su 4.000 location quindi una media di 10 stalli per ogni location ovviamente ci sono quelli più piccoli e quelli più grandi ma capiamo un po' come sta andando la crescita dei supercharger andando a prendere l'ultima earnings call quindi quella dello scorso trimestre e andando a vedere proprio la pagina del rapporto riguardante proprio i numeri dei supercharger e ora andiamo a vedere in particolare sono le ultime due righe quindi il numero che leggete in rosso 4.283 sono i luoghi proprio le location dei supercharger mentre 38.883 sono gli stalli questo ovviamente è aggiornato al trimestre precedente abbiamo appena detto che siamo arrivati a 40.000 se guardiamo invece nella colonna a destra le percentuali quello è il ratio di crescita e come vedete ovviamente la crescita del 32-33% anno su anno è impressionante ma se le auto crescono del 50% anno su anno anche i supercharger a logica dovrebbero crescere più o meno con lo stesso ratio però questo non è propriamente vero perché dobbiamo anche considerare che molte persone non utilizzano regolarmente i supercharger quindi cosa vuol dire? e questo ovviamente aumentando le auto va ad aumentare anche la forbice di chi li usa effettivamente in maniera consistente e chi invece non li usa proprio perché se io uso sempre la ricarica casalinga oppure uso altre reti la mia auto non va a incidere sull'uso dei supercharger quindi sì è vero dovrebbero crescere pariteticamente alle auto ma fino a un certo punto e poi come già detto prima e anche altre volte io credo che Tesla abbia tutti gli strumenti per andare a valutare se la crescita dei supercharger debba accelerare o comunque rallentare o rimanere costante nel tempo quindi io non mi preoccuperei di questa differenza di crescita tra le auto e i supercharger comunque ce ne sono io sinceramente a parte qualche caso sporadico negli Stati Uniti soprattutto e in periodi molto specifici tra cui proprio il weekend del ringraziamento non ne ho viste quindi direi che per ora questo ratio di crescita va più che bene ricordiamoci comunque che la rete supercharger sia negli Stati Uniti che in Europa è la più diffusa la più grande e la più affidabile e veniamo ora alle consegne e ne abbiamo ben tre ma so che ce ne sono una marea allora il primo è Salvo grandissimo che è andato a Firenze stamattina a prendere la sua Model Y a trazione posteriore dovevo andare con lui purtroppo per motivi personali non sono riuscito a accompagnarlo ci siamo sentiti nel pomeriggio super contentissimo e se riusciamo dovremmo portare la sua auto sul canale per una prova sprint subito della Model Y a trazione posteriore complimenti davvero e ti ho sentito davvero contento quindi mi fa davvero piacere divertiti e ecco qui invece nel suo garage Andrea che tra l'altro lì in fondo a sinistra ha anche un Powerwall complimenti sia per il Powerwall che per la tua nuova Tesla complimentissimi grande e l'ultimo per stasera Federico eccolo qui che ha appena ritirato anche lui la sua Model Y trazione posteriore complimentissimi anche a te divertiti goditela e fammi sapere un po' come ti trovi questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.